Avanti su, amanti dell'estate, alzatevi e ballate con noi! Alzatevi! Ora muoveremo le mani come un irrigatore! Siamo pronti per ballare, tutti insieme per giocare Io le mani muoverò e la doccia io farò Molto bene, ragazzi! Adesso quando dirò via inizieremo a muoverci come un irrigatore! Pronti? E un, due, tre! Fatti una doccia, forza! Fatti una doccia come Matti! Una doccia, forza! Fatti una doccia come Matti! Fatti una doccia, forza! Fatti una doccia come Matti! Una doccia, forza! Fatti una doccia come Matti! Com'è bello stare sotto l'acqua in estate, sai! Rinfrescarsi è bello e poi balla, balla insieme a noi! Fatti una doccia, forza! Fatti una doccia come Matti! Una doccia, forza! Fatti una doccia come Matti! Fatti una doccia, forza! Fatti una doccia come Matti! Una doccia, forza! Fatti una doccia come Matti! Molto bene, lupetti! Le prove di oggi saranno afferrare il nastro dal grande albero, saltare in mezzo agli irrigatori, scivolare giù sulla rampa sdrucciolevole che porta al lago e remare in una canoa fino all'altro lato, dove dovrete scagliare la vostra freccia sull'obiettivo finale! Fatti una doccia! Ecco, sono partiti! Hanno preso i loro nastri e si dirigono verso la zona degli irrigatori! Yuppie, vai! Che bello! Freddo, freddo, freddo! Rinfrescata! Adesso stanno affrontando la rampa sdrucciolevole! Guardate come scivolano! Pazzesco! E ora i Gappius lupetti sono montati in canoa e attraversano il lago! Fate attenzione alle cascate, Big Bubble! Lupetti, ripeto! Attenzione alle cascate! Ci siamo quasi! Ce l'hanno fatta! Tutti i Gappius lupetti hanno completato il percorso! Davvero un ottimo lavoro, Gappius lupetti! Fermo, Bubble Puppy! Ehi, Bubble Puppy! Sta andando dritto alle cascate! Non posso guardare! Dai, resisti, cucciolo, sta arrivando! Preso! Ce l'hai fatta, Bubble Papi al sicuro! Gil lo ha salvato! È stata davvero un'impresa coraggiosa, Gil. E voi, Gappis, siete proprio tutti dei super lupetti straordinari. Ma prima di dirvi arrivederci, vorrei soltanto dire un'ultima cosa. Preso! Ora tocca a te! Ehi, adesso tocca a me! Torni dietro, ti prenderò! Wow, è stato emozionante! Sei tutto intero, Bubble Papi? Sì, sta bene. Guarda tu stessa. Palloncini d'acqua. Vuoi ricominciare? Aha. Questi sono per una nuova attività del campo. Si chiama la gara dei palloncini d'acqua lanciati in aria. L'ho appena inventata io. Wow, sei bravo a non farli cadere. Grazie. È una delle tante cose che ho imparato al campo estivo. Oh? Oh, oh. Molto rifrescante!